un attimo una parola grossa adesso arrivano tutti anche gli altri dai spampi stanno arrivando tutti no c'era giù frank ma anche lui ha detto che ha chiamato ma non arriva fino a qua tanto gli ho chiamati io e il cellulare arrivano su tutti adesso trovate una valigia coi soldi si ma ragazzi voi qua non avete un'idea no no qua non avete un'idea di cosa c'è qua ma questo vabbè marcisce ok ma non avete un'idea di cosa c'è sotto qua perché da lì non lo vedi ma non avete un'idea ma proprio non ce l'avete abbiamo recuperato un altro sacchetto va perché non sto facendo i video va bene vengo giù vengo giù momento la cazzuola è pronta no frank la cazzuola è pronta pentola e cucchiai dai ce l'hai le castagne a me lo ti coglioni figa guarda la persona si deve girare e passare a loro lancio eh guarda la persona si deve girare e passare a loro ma ci vuole il colpo di macete e tira e tira beh no e tira e tira e tira e tira e allora devo stare qua ma se io tolgo la motoscega dalle spalle non è meglio magari era il caso eh no perché incomincia a darmi fastidio tira no c'è sotto c'è sotto uno mincarella dalla casa di ora da me c'è un cesso per te è quattro anni che abbiamo lasciato vita e 100 gradi ma non è una chiamata